...degli atti di eroismo incredibili, chiamiamo a raggiungerci il presidente Carmine Abagnale e iniziamo a premiare appunto i rappresentanti delle forze di polizia, ma non soltanto, è vero? Certo, io chiedo Mario Tritto che venga qui, il presidente dell'API, e intanto qui presente con noi è il presidente della provincia di Milano, il dottor Nino Fabiani che è il rappresentante del questore, il dottor Tullio Mastrangelo che è il comandante della polizia locale, e permettetemi di chiamare sul palco ancora due personaggi, uno famoso Bruno Pizzu e un altro meno famoso ma importante che è Milco Paletti, già presidente della Milano Sport. Credo portare saluti del questore. Certamente non mancherò di portare il mio saluto, ma il saluto di tutta la polizia di Stato che rappresento a nome del questore che questa sera, questo pomeriggio anzi non ha potuto intervenire perché è fuori Milano, un saluto che è un po' un tuffo piacevole, piacevole perché abbiamo risso e quindi penserei di rubarvi probabilmente due dei vostri graditi ospiti che ci hanno...